ciao a tutti ragazzi sono likes siamo tornati su clash of clans e questa volta dove oggi andiamo a fare i vari potenzialmente a farsi un paio di partite in giro così molto randomiche intanto vediamo l'ultima partita abbiamo vinto a difesa escoltiamo i vari reseer qua abbiamo un sacco di risorse da spendere quindi rimanere fino a tutta la fine del video che poi vi metto il sondaggio anche per votare i prossimi miglioramenti qua sopra lo metto adesso quindi andare a cliccarci e a scegliere siete voi che decidete ok qua togliamo sto cespuglietto malefico e allora andiamo a farci una partitina per riscuotere il bozzino qua andando stiamo vincendo ottimo il clan in cui sto è questo di da forever se avete clan da consigliarmi in cui posso venire che sono di buon livello comunque o che giocano mandate scrivetemi sotto nei commenti e magari ci passo per vedere come sono perché questo per ora è di di transito cioè tanto per troppo per avere un clan insomma villaggio secondario un attimo prendiamo le risorse che è quasi maxato mancano soltanto questi muretti qua che è maxato per il livello della sala del costruttore livello 4 quindi mancano questi pochi muri che andrò a finire e poi farò un video a parte per il di quell'altro tf di come si chiama 5 non mi ricordo non so veramente come si scrive quindi scriveremo anche questo sotto nei commenti di questo è il th questo il townhall e quell'altro non so come si chiama e detto questo andiamo a cercarci una partita senza dilungarci troppo in chiacchiere varie questo non c'è risorse purtroppo questo ci ha già le risorse il secondo skip non male perché tanto di oro ne possiamo prendere tantissimo sarebbe preciso l'oro di sir nero non ne possiamo prendere prendiamo mille tre non sarebbe male questo è il mio modo di attaccare in questo momento quindi andiamo a rompere qua in mezzo rompiamo tutto ok quindi qua è tutto bello che è aperto andiamo di bomba qui al centro per aprire tutto bene maghezzi tattici che vanno a distruggere le strutture così che le mie truppe vadano in mezzo ok perfetto 3 barbaro regina e gli assieri altri 2 maghi uno va a passeggio di là purella bella qua in mezzo per curare tutto furia e ok andiamo a utilizzare tutta l'uvidacqua aggiriamo si può stare in l'arco x facciamo già la corona ok ripicoliamo meglio ma mi sembra che non ci siano problemi nessun tipo di capanna in quel futuro e non ne abbiamo ai lati quindi andiamo a fare così mettiamo i batterini qua curiamo tutto che stanno subendo un po di danni ok la gelo se riesco non l'ho diritto quella è crana perché non è il motivo e barbaro che andiamo a potenziare per togliere tutto comunque livello abbastanza basso era non dovrebbero essere grandi problemi a fare il tre corone il tre corone avete capito ok qua buttiamo tutto dovremmo esserci ormai più o meno abbiamo anche la vita e la queen quindi non ci sono proprio problemi andiamo a potenziare allora comunque nel video le streghe che avevate votato nel scorso video a livello 3 e poi mi sembra che avevate detto la finita torri dello stregone e adesso vediamo cos'altro ci esce comunque facciamo diversi miramenti visto che abbiamo 4 muratori su 4 vittoria molto easy andiamo a sbloccare innanzitutto le streghe livello 3 che aumentano di molto ecco qua nuovi giorni ci mettono a voglia quindi ci vediamo tra un bel po' probabilmente con clash of clans qua andiamo a fare la torre con 5200 dello stregone riprendiamoci dalla tesoreria qualcosa indietro per ritornare a 6 milioni e ce ne va a fare a sto punto direi anche quest'altra torre dello stregone così le abbiamo fatte e non possiamo farle altro livello quindi queste sono maxate per ora per il th10 ok con l'elisir invece adesso vediamo un po' con l'elisir mi sembra che c'era da fare la trivella di elisir nero fabbrica incantesimi oscuri ci manca leggermente poco di elisir però per fare tutti e due oppure ci andiamo a fare una minieretta d'oro io direi di andarci a fare questa trivella qua ce la facciamo assolutamente e ci facciamo anche questo dai ce lo facciamo quanto ci fa? 101? pensavo di meno 101 possiamo andarli a prendere da qualche parte? probabilmente si ce li andiamo a prendere lì andiamo a prendere esattamente nell'addestramento che ci ha 300 mila è al posto tanto addestramento che lo taglio però ok ci è voluto veramente tanto per farlo no ok nulla termina la battaglia ok è stata veramente lunga perché non c'è una queen acer queen walk quindi valetrice con la regina e gli arcieri si è voluto camminare parecchio è stata veramente lunga la camminata che non ve lo so neanche a dire comunque ci siamo raggiunti ai 4 milioni di esire e andiamo a sbloccarci il portare a livello 5 la fabbrica incantesimo oscura dove andiamo a sbloccare il piantesimo un pipistrello ok io direi che per questo video è tutto noi ci vediamo in un prossimo video io vi ricordo di iscrivervi qui al centro del villaggio lasciate like condividere il video con i vostri amici attivate la campanellina per ricordarvi i video vi ricordo l'importante di vedere i video è molto importante nel mio canale così vi tenete aggiornati e attivate la campanellina e ricordatevi il sondaggio un saluto a tutti e bella